Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare di libertà! Eccoci qui nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte Siamo con Roberta Tritto Ciao ciao! Che ci aiuterà in questa canzone difficilissima con tantissimi accordi Vedrete che è un casino però insomma riusciremo a farla Lo facciamo dopo la sigla Cantare di libertà! Bene ragazzi, allora, la canzone di oggi è Fiamme negli occhi dei Comacose Come abbiamo visto nel titolo E prima di andare avanti con il video io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto E di attivare la campanellina così ogni qualvolta esce un video nuovo Vi arriva una notifica e lo potete guardare subito Andiamo agli accordi Bene ragazzi, allora questa canzone si compone di due accordi soltanto Dall'inizio alla fine Vi dimostro subito, sono Re maggiore Quindi dove ci sono i due tasti neri qui c'è il Do Accanto abbiamo Re Fa diesis, La Questo è Re maggiore E poi andiamo avanti, troviamo Sol maggiore Sol, Si, Re Siccome questa canzone è così dall'inizio alla fine Io cercherò di variare diciamo il ritmo Farò una volta un po' più lento magari nella strofa Poi faccio un po' più veloce a livello proprio di battute Faccio meno battute, più battute In base a quello che sento come il mio modo di voler suonare Voi trovate il vostro Potete anche restare fermi su qualche accordo più tempo E poi cambiare Insomma cercate un modo per farla Ma gli accordi sono sempre questi Vi facciamo ascoltare Quando ti sto vicino sento Che volte per il paricentro In mezzo come fa una foglia Anzi come la California Mettà sono una donna forte Decisa come il vino buono Mettando a venere di me Che provo ad abbracciare un uomo Anche se qui c'è troppa gente Io me ne fonto negli altri E te lo dico ugualmente Resta qui Ok, ritorniamo Ancora un minuto Se l'inverno è soltanto un'estate Che non ti ha conosciuto E non sa Come mi riduci Alle fiamme negli occhi E infatti se mi guardi mi riduci Ok, come vedete Potete usare il ritmo che volete O arpeggiare L'importante è che le note che usate Sono sempre queste tre Per il re E queste tre per il sol Quindi divertitevi Che su questa canzone potete farlo Perché è molto semplice Bene, come abbiamo visto Questo è un video molto difficile Però ce l'abbiamo fatta Grazie Roberta Per averci aiutato Grazie a te E quindi io comunque Vi lascio in descrizione Il link dove trovate il testo Con gli accordi E in più Due puntate Per imparare un po' qualcosa Sul pianoforte E se voleste accompagnarvi Anche utilizzando la mano sinistra C'è una puntata Che parla di come poterlo fare Quindi vi lascerò il link Anche di quella in descrizione E ci vediamo Alla prossima Alla prossima Ciao